amici di super j buonasera il fronte perturbato che ha interessato la penisola tra ieri ed oggi sta ormai lasciando l'italia domani pausa prima dell'arrivo di un nuovo fronte proveniente sempre dal nord atlantico che raggiungerà le alpi occidentali domani sera ancora per domani deboli precipitazioni possibili nei settori tirrenici del centro sud italia più soleggiati in quelli adriatici dove continuerà ad essere mite in abruzzo sarà un giovedì all'insegna del cielo irregolarmente nuvoloso più soleggiato nei settori adriatici e con qualche addensamento in più in quelli occidentali ma con basso rischio di pioggia la ventilazione continuerà a provenire dai quadranti sud occidentali prima di deboli intensità ma in rinforzo dal pomeriggio il mare poco mosso le temperature minime di questa notte comprese tra 11 e 18 gradi e le massime di domani tra 15 e 25 gradi mi fermo qui vi ringrazio per l'attenzione le previsioni sul super j tornano domani mattina ciao 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 Grazie a tutti.